Grandi dubbi a oggi non ne ho, non sarà a disposizione solamente De Feodis per un problema all'aduttore, ma per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave, contiamo di riaverlo a disposizione per la prossima gara interna nel derby col Siena. Mi auguro che si facciano dei passi avanti rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Como perché se tante cose positive sono state fatte non sono bastate per portare a casa i tre punti e quindi vuol dire che ne dovremo fare ancora di più, dovremo essere ancora più concreti e concedere ancora meno per portare a casa sta benedetta vittoria. Un avversario tosto, un avversario rognoso che non mollerà di un centimetro, dove l'aspetto agonistico e temperamentale probabilmente la farà da padrona, sarà l'aspetto determinante dove la squadra si dovrà far trovare pronta a ribattere colpo su colpo. Credo che questo sia un pochettino la chiave della gara di domani, l'essere bravi a controbattere al loro ardore agonistico, alla loro voglia di andare a contrastare, alla loro voglia di metterla anche sulla bagarre. Noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti perché poi dopo abbiamo le qualità per poterli mettere in difficoltà.